Italian Sport Raid Awards in collaborazione con Thea Kids presenta il campione dei ragazzi 2016. Il campione di oggi è Martina Centofanti. Io ho iniziato a praticare ginnastica ritmica nel 2007, quindi ho seguito le Olimpiadi di Pechino e di Londra. Ho sempre seguito e ammirato la squadra nazionale, sognando un giorno di poter arrivare a gareggiare con loro. Questo sogno mi sembrava una meta irraggiungibile e ora che ci sono così vicina sono veramente contentissima e onorata. A me piacciono moltissimo tutti gli sport, seguo e tifo anche tutte le altre nazionali, però fin da piccola la mia più grande passione è stata quella per la ginnastica ritmica. L'anno scorso ci siamo dovute qualificare ai mondiali di Stoccarda e una volta arrivata alla qualifica ho visto pian piano il mio sogno realizzarsi e ho capito che Rio era sempre più vicino, anche se ancora ora non mi sembra vero. Sono veramente contentissima e mi ritengo anche molto fortunata, perché so che l'Olimpiadi è il sogno di ogni atleta. E penso che queste siano emozioni che mi rimarranno sempre nel cuore per tutta la vita. E' Martina Centofanti la tua sportiva preferita? Vai su Theakids.it e vota chi tra questi grandi atleti vincerà il titolo di Il Campione dei Ragazzi.